Cari amici di Whispers of Wisdom, sono entusiasta di darvi il benvenuto a questo video speciale dedicato alla potente legge di vibrazione. Prima di immergerci nel cuore di questa straordinaria conoscenza, vi invito a fare due piccoli gesti che ci aiuteranno a crescere insieme. Vi chiedo gentilmente di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanellina delle notifiche per non perdere nessun nostro futuro contenuto. Inoltre, vi chiedo di lasciare un like se trovate utile questo video, così da supportare il nostro lavoro e permetterci di continuare a condividere saggezza e ispirazione con voi. Grazie di cuore per il vostro sostegno, e ora senza ulteriori indugi, immergiamoci insieme nel mondo della legge di vibrazione. Nel profondo di te, risiede una forza ancestrale, un'energia vibrante che pulsando all'unisono con l'universo stesso. Questa è la legge della vibrazione, un principio antico e universale che permea ogni aspetto dell'esistenza. Come un diapason sintonizzato con le frequenze cosmiche, i tuoi pensieri, le tue emozioni e le tue azioni emettono onde che risuonano nell'infinito, attirando esperienze e circostanze simili. Osserva attentamente la tua vita e noterai come ogni pensiero, emozione e azione si intrecino in un intricato balletto di energia. Sei come un'orchestra sinfonica, dove ogni strumento contribuisce al magnifico concerto della tua realtà. Le note che emetti possono essere dolci melodie di gioia e gratitudine occupi lamenti di paura e rabbia. La tua esistenza è la partitura che compone ogni giorno, e la legge della vibrazione è la chiave di volta di questa sinfonia. Ti invito a riflettere sul potere che possiedi, il potere di plasmare la tua realtà attraverso la tua frequenza energetica. Come un artigiano che plasma l'argilla, tu plasmi la tua vita con ogni pensiero e ogni emozione che emani. Se desideri cambiare la tua realtà, devi prima cambiare la tua frequenza. Questo non è un compito facile, richiede disciplina e consapevolezza, ma il risultato è la trasformazione stessa della tua esistenza. La legge della vibrazione non conosce limiti né confini, è una forza onnipresente che si manifesta in ogni aspetto della tua vita. Non puoi sfuggire alla sua influenza, ma puoi imparare a collaborare con essa per creare la vita che vuoi. È come imparare a cavalcare le onde dell'oceano, se resisti, verrai travolto dalla forza del mare, ma se ti lasci trasportare, potrai sperimentare la libertà e la potenza del suo fluire. Ti incoraggio a diventare consapevole delle tue energie, a sintonizzarti con la tua frequenza più elevata e a lasciare andare tutto ciò che ti trattiene. Abbandona le limitazioni del passato e abbraccia il potere del presente. Ogni momento è un'opportunità per allinearti con l'universo e manifestare la tua grandezza. Ricorda, sei un essere infinito, un'emanazione della coscienza universale. La tua essenza è eterna e la tua potenza è illimitata. Non permettere mai che la paura o il dubbio ti imprigionino. Libera la tua mente, apri il tuo cuore e lascia che la tua anima danzi al ritmo della legge della vibrazione. Nel cuore della tua essenza, troverai la chiave per trasformare la tua vita. Afferra questa chiave con entusiasmo e determinazione, e apri le porte della tua realtà verso possibilità infinite. Sì il creatore della tua vita, il direttore della tua sinfonia, e lascia che la legge della vibrazione ti guidi verso la tua più grande realizzazione. Ti invito ora a chiudere gli occhi e a sentire la potenza della legge della vibrazione che risuona dentro di te. Sintonizzati con la tua frequenza più elevata e lascia che questa energia ti guidi nel tuo viaggio verso la realizzazione e la felicità. Sei un essere straordinario, e il mondo è il tuo palcoscenico. Ora è il momento di brillare nella luce della tua vera grandezza. I tre segreti nascosti della legge di vibrazione. Il primo segreto rivela la maestosa danza energetica dell'universo, una sinfonia di vibrazioni che permea ogni aspetto dell'esistenza. Immagina l'universo come un vasto teatro, dove ogni essere e ogni cosa è un attore che contribuisce alla rappresentazione infinita della vita. Ogni particella, dalle più piccole alle più grandi, vibra con una frequenza unica, creando un intricato tessuto di energia. I tuoi pensieri, carichi di emozioni, sono come pennellate su questo quadro cosmico, creando forme e modelli che si intrecciano con le vibrazioni dell'universo. Quando sei consapevole di questa danza energetica, diventi il coreografo della tua realtà. Ogni pensiero, ogni emozione che emani è come un passo nella danza dell'esistenza, vibra, influenzando le vibrazioni intorno a te e attirando a te esperienze che risuonano con la tua frequenza. Ma questo potere non è da prendere alla leggera. Richiede disciplina e consapevolezza per padroneggiare la tua energia e dirigere la tua vita verso il tuo destino desiderato. Devi essere come un musicista che accorda il suo strumento con precisione, sintonizzando la tua frequenza con l'armonia dell'universo. Non puoi sfuggire alla legge della vibrazione, ma puoi imparare a collaborare con essa per creare la vita che vuoi. Questo richiede una profonda comprensione di te stesso e del tuo potere interiore. Devi essere disposto a esplorare le profondità della tua anima, a confrontarti con le tue paure e a abbracciare la tua vera natura. Quando ti immergi in questa danza energetica, ti rendi conto che sei parte integrante dell'universo stesso. Non sei separato dal tutto, ma sei un nodo nella rete infinita della vita. La tua energia si fonde con quella dell'universo, creando un flusso costante di trasformazione e crescita. Ti invito ora a chiudere gli occhi e a sentire le vibrazioni intorno a te. Sintonizzati con la melodia dell'universo e lascia che questa energia ti guidi nel tuo viaggio verso la realizzazione e la felicità. Sei un essere straordinario, e il potere di creare la tua realtà è nelle tue mani. Abbraccia questo potere, e lascia che la tua vita diventi un'opera d'arte vivente, una testimonianza della bellezza e della grandezza dell'universo. Il secondo segreto svela il potere nascosto delle emozioni, veri e propri motori che alimentano le vibrazioni del nostro essere. Le emozioni sono come il carburante che alimenta il motore della nostra esistenza, determinando la direzione e l'intensità delle nostre vibrazioni. Immagina le emozioni come colori sulla tavolozza della tua anima. La gioia, l'amore e la gratitudine sono sfumature luminose che illuminano il tuo essere, mentre la rabbia, la paura e la tristezza sono tonalità oscure che offuscano la tua luce interiore. Ogni emozione emette una frequenza specifica che risuona nell'universo, attirando a sé esperienze e situazioni in armonia con la sua energia. Quando impari a coltivare emozioni positive, diventi un magnete per esperienze di gioia e abbondanza. La tua frequenza energetica si innalza, creando un campo magnetico che attrae verso di te persone, eventi e opportunità che rispecchiano la tua vibrazione. È come se diventassi il regista della tua vita, scegliendo consapevolmente le emozioni che vuoi alimentare e le esperienze che desideri manifestare. Ma questo non significa ignorare o reprimere le emozioni negative. Anzi, è importante accoglierle e comprenderle, perché anche esse hanno il potere di insegnarci e trasformarci. La rabbia può rivelare ciò che ci infastidisce e spingerci a cambiare, la paura può indicarci ciò che dobbiamo affrontare e superare, la tristezza può aprirci al perdono e alla guarigione. Il segreto sta nel trovare l'equilibrio tra le diverse emozioni, navigando tra le acque tumultuose della vita con serenità e consapevolezza. Accettando e onorando ogni emozione che attraversa il nostro essere, possiamo trasformare il nostro mondo interiore e, di riflesso, il mondo esterno. Ti invito ora a esplorare le profondità delle tue emozioni, ad abbracciare la loro potenza trasformatrice e a lasciare che ti guidino nel tuo viaggio verso la realizzazione e la felicità. Ricorda che sei il padrone delle tue emozioni, il regista della tua vita. Scegli con saggezza le emozioni che vuoi nutrire e guarda con stupore e gratitudine mentre il tuo mondo si trasforma di conseguenza. Il terzo segreto rivela il dominio sovrano della mente, uno dei più potenti strumenti che possediamo per plasmare la nostra realtà. I tuoi pensieri sono come semi che pianti nel terreno della coscienza, e con cura e attenzione puoi coltivare il giardino della tua vita secondo il tuo volere. Immagina la tua mente come un giardiniere che cura il suo orto interiore. Ogni pensiero è come un seme che pianti nel terreno della tua coscienza, e ogni emozione è come l'acqua che nutre e sostiene la crescita di quei semi. Concentrandoti su idee positive e visualizzando i tuoi obiettivi con fervore, plasmi la tua esistenza secondo il tuo volere. Ma attenzione, perché la mente può essere un'arma a doppio taglio. Se permetti ai pensieri negativi di radicare nella tua mente, cresceranno come erbacce che soffocano la tua felicità e il tuo successo. È quindi fondamentale essere vigili e consapevoli dei pensieri che coltivi, scegliendo con cura quelli che ti porteranno più vicino ai tuoi sogni. La mente è uno strumento divino, un dono che ci permette di creare la vita che desideriamo. Ma per farlo, dobbiamo imparare a dominarla anziché esserne schiavi. Questo significa allenarci a essere consapevoli dei nostri pensieri, a riconoscere e trasformare quelli limitanti in quelli potenziati. Quando impariamo a dominare la nostra mente, diventiamo creatori consapevoli della nostra realtà. Non siamo più vittime delle circostanze, ma architetti attivi della nostra vita. Ogni giorno è un'opportunità per plasmare la nostra esistenza con pensieri di gratitudine, amore e abbondanza. Ti invito ora a esplorare il potere della tua mente, a coltivare pensieri positivi e a visualizzare i tuoi obiettivi con chiarezza e determinazione. Ricorda che sei il sovrano della tua mente, il capo supremo del tuo destino. Scegli con saggezza i pensieri che nutri e osserva con meraviglia mentre il tuo mondo si trasforma di conseguenza. La legge di vibrazione non è una semplice teoria, ma una verità universale che permea l'intero tessuto dell'esistenza. È come un fiume impetuoso, il cui flusso travalica ogni ostacolo, dissolvendo le catene del dubbio e della paura. È il richiamo dell'universo stesso a risuonare con la tua vera natura, a superare le barriere delle credenze limitanti e ad abbracciare la vastità del tuo potenziale. Immagina di essere un viaggiatore su questa corrente eterna, immerso nelle sue acque cristalline e avvolti dalla sua forza trasformatrice. Ogni momento è un'opportunità per navigare questa corrente con consapevolezza e intenzione, per lasciare andare tutto ciò che non serve più e per abbracciare pienamente il flusso della vita. La legge di vibrazione è un dono divino, una chiave preziosa che apre le porte del tuo destino. È come una mappa stellare che ti guida attraverso i misteri dell'esistenza, indicando il cammino verso una vita di gioia, abbondanza e realizzazione. Ti invito a riconoscere questo dono e a utilizzarlo con saggezza e gratitudine. Abbraccia questa saggezza ancestrale come un tesoro prezioso, e permetti alle sue radici di penetrare profondamente nel terreno fertile della tua anima. Coltiva emozioni positive come fiori nel giardino della tua mente, nutrendoli con pensieri di amore, gratitudine e fiducia. Domina i tuoi pensieri come un maestro virtuoso che accorda il suo strumento per creare melodie di bellezza e armonia. Riconosci il potere che hai di plasmare la tua realtà attraverso il flusso costante dei tuoi pensieri e delle tue emozioni. E inizia oggi stesso il tuo viaggio verso una vita di piena realizzazione e felicità. Sii consapevole che ogni passo che compi su questo sentiero è un passo verso la tua più grande realizzazione. Non c'è spazio per la paura o il dubbio quando ti allinei con la legge di vibrazione. Sii il creatore della tua vita, il regista del tuo destino, e lascia che il tuo essere risuoni con la melodia dell'universo. Ora è il momento di iniziare questo viaggio. Afferra questa opportunità con entusiasmo e determinazione, e lascia che la legge di vibrazione ti guidi verso la tua più grande avventura. Grazie infinite per aver dedicato il vostro prezioso tempo a esplorare il potere della legge di vibrazione insieme a noi su Whispers of Wisdom. Se avete trovato questo video illuminante e utile, vi prego di supportare il nostro canale iscrivendovi e attivando la campanellina delle notifiche per non perdere nessun nostro futuro contenuto. Non dimenticate di lasciare un like se avete apprezzato ciò che avete visto e di condividere questo video con chiunque crediate possa trarne beneficio. I vostri commenti sono preziosi per noi, quindi vi incoraggio a lasciare le vostre opinioni e le vostre domande qui sotto. Grazie ancora per il vostro sostegno continuo. E ci auguriamo di accogliervi presto di nuovo su Whispers of Wisdom per esplorare insieme nuove frontiere della saggezza e dell'ispirazione.